Guarino se ne va gran numero destro vantaggio LSNG Guarino verticale Cesare Esposito prova a girarsi occhio col destro Esposito Cesare vantaggio Gunners colpo di scena la zetta per la zetta la zetta arma il sinistro che golla tra Sassuolo e Fedeli tacco di paduano pallarete è il padu Fierro in area di rigore eccolo qua pallarete Carlo Fierro pareggio del Crystal Palace zuccata perfetta incrociare l'angolo più lontano per Fierro Genovese al volo mamma mia che golazzo di Genovese 4 a 3 questo è un colpo che ha nel suo bagaglio tecnico Rosario Genovese calcia una finta a Romeo sinistro all'incrocio dei pali 3 a 1 Sassuolo meraviglia di Romeo Canitano lancia poi arriva Ferraiolo al volo 4 a 0 gol bellissimo di Antonio Ferraiolo vai sali un po' sali un po' va schioppa porta il pallone lancio dritto per dritto rete incredibile schioppa all'incrocio grazie a tutti prassi ora genovese si coordina prova fantastico genovese gabbarelli salgono tutti palla sul secondo prova barbato pareggio all'ultimo respiro così barbato grazie a tutti